Musica Piagge diffuse, locali temporali su gran parte dell'Italia fino alla Campania e alla Calabria tirrenica quasi un ritorno dell'autunno sul nostro paese con le temperature che subiranno un ulteriore calo. Le massime a stento raggiungeranno i 19 gradi ma non sulle isole che saranno più soleggiate con temperature sui 20-21. L'instabilità rimarrà diffusa per gran parte della settimana. Mercoledì infatti una nuova perturbazione raggiungerà il nord con altre piogge temporali. Per il primo maggio infine il tempo sarà in prevalenza buono su gran parte delle regioni ma dal pomeriggio peggiorerà il nord a partire dai settori alpini.